ciao a tutti datemi tanti mi piace c'è un bel video ma una baby radio ciao a tutti Buon appetito! Ma il speso è proprio pelato. No, dai. Madonna mia. Madonna mia. Madonna mia. Madonna mia. io oggi non parlo in Italia parlo in Italia ok hello hello and I clap your hands torno è venuta in Italia e non è venuta parlo pelle 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 è tutto più non è così stai male, non è giusto ma che? ma che casco ma che casco ma che casco Beh, sto qua non mi piace, li faremo i capelli lunghi, come una ragazza, la peppa di una Grazie a tutti. Oh, 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 oh. è un giro e un giro e un giro e un giro e un giro No, non c'è i capelli. Vabbè loro due si sono nombrati perché allora loro è vero no perché dovevano fare una baldina, questa è una bambina, va sta la bambina, una bambina che sia baldina, baldina. Ma la facciamo lei come baldina. Bene, iniziamo a fare baldina, iniziamo a fare baldina. No grazie non voglio, dai basta. Cavolo, basta. Facciamo lei come baldina. Grazie. 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 Sì, mi chiesi questa, ma come dice lei, ho contato solamente un piano di lo chiamandola, e quando mi sono tolto le scarpe, si viva accanto a me, si è invenzita. Grazie adesso tanto. Sì, sì, sì. L'ho già chiriata e ho già il... Avete ragione. Io lo chiedi. Sì, sì, sì. Sì, allora, voi non potreste smetterla con questa cosa di piacere via dicendo? Perché non uscire? È vero che a favore sono troppo invenzione. Scusa. Ascolta, dico che siamo a un mano al palazzo reale, nessun problema, ma come se mette il vestito giusto, arriva qui e tutto è come se l'aspettavo e senza capire come diventa esattamente chi non avrebbe mai creduto di essere. Ho capito. Scusa. 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 e poi facciamo i manini il bullo il bullo serve a questo bene benissimo 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 bene 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 ciao bene 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 Siamo bene bene porti da porti, allora vale davvero la pena di prendere quelli anche perché si dosano bene, danno meno problemi nel trasporto verso casa eccetera, altrimenti il sulgelato è un'ottima alternativa perché ci permette di variare molto la dieta e poi anche di uscire dai vincoli della stagionalità, a facciare delle primizie in assurdità, se ho voglia di qualcosa di particolare, il sulgelato, sicuramente è manco sulgelato, allora però è che sicuramente diciamo che un gruppo nemmeno mettiamo migliori, sia come qualità, come rischietta, allora a percoceremo oggi la qualità e anche in questo caso anche ci dobbiamo mettere. Ah beh, in effetti purtroppo mi piace che questo è un argomento strenguiti d'incluso e si stava a vedere come si stava a vedere, perché se andiamo a vedere la realtà di una volta che c'è un sacco di problemi legati all'igiene dell'alimentazione, per esempio ho giudizioni, poi gli alimenti sono stati problemi, però ecco dobbiamo uscire dall'idea della qualità di sicurezza, perché non può essere il sicuro della propria, perché c'è sempre la cosa che mettono a vedere davanti, noi la qualità la dobbiamo oggi considerare su un campo con questi servizi, quindi quando abbiamo davanti un progetto, no? È giusto, la sicurezza l'abbiamo prescoltata, anche se il controllo è sempre meno, ma oggi è un prerequisito, poi deve piacere, deve avere un buon valore profettivo, non solo non mi deve far male, non mi deve far male, non mi deve far male, e poi soprattutto deve soddisfarmi quando mangio insieme agli altri, ma oltre a questo che riguarda il mio rapporto con l'alimento, ci vogliono anche oggi anche considerazioni, tra l'alimento, va bene a me, ma l'ambiente da cui proviene, che poi è quello in cui vivo. Noi ho due pozzette, l'ha fatto il gas! ... ... ... ... ... ... Grazie. Sono sicuramente interessanti ma bisogna essere chiari, il bio non nasce per produrre cose che abbiano un maggior valore nutritivo e non nasce neanche per produrre cose che siano intrinsecamente più sicure. Oggi l'agricoltura tradizionale, convenzionale, ha ridotto moltissimo l'uso dei fitofarmaci, quindi troviamo prodotti sicuri anche non biologici. Il bio è una forma di rapporto in generale con la produzione degli alimenti che per me è particolarmente interessante per esempio per quelli animali rispetto all'attenzione al benessere animale, rispetto all'agricoltura, all'attenzione alla qualità, al valorizzare il suolo come un elemento fondamentale. Non è per questo, è per un atteggiamento rispetto all'ambiente, all'etica, al benessere. Non come qualità di prodotto, lei dice? No, no, sono stati fatti diverse ricerche. Per alcuni prodotti sì è vero, se visto che per esempio le verdure coltivate con metodo biologico, la quantità dei nitrati, che sono sostanze che dovremmo assumere poco, sono inferiori. No, no, sono stati fatti diversi. No, no, sono stati fatti diversi.